E' stata un'indagine lampo, quella condotta dai carabinieri di Agrigento ieri pomeriggio e che ha consentito di individuare ed arrestare gli autori di una rapina in banca messa a segno in pieno centro a Raffadali, da dove erano riusciti a fuggire con un ingente bottino. Immediatamente dalla centrale operativa del comando provinciale di Agrigento è scattato l'ordine di attivazione del piano antirapina e l'operazione si è conclusa qualche ora dopo la rapina nella piazzola di un distributore di carburanti di Sant'Angelo Muxaro, dove i tre rapinatori, due palermitani ed un uomo di Santa Elisabetta, sono stati accerchiati dalle gazzelle dei carabinieri ed arrestati. Recuperato anche il bottino. I carabinieri durante una conferenza stampa che si è svolta questa mattina hanno illustrato i dettagli dell'operazione che ha consentito di arrestare i tre rapinatori. Tutto è partito da una telefonata alla centrale operativa in cui si riferiva di una rapina in banca a Raffadali in via Porta Agrigento, da dove i rapinatori avevano portato via talmente tanti soldi che impiegati e militari dell'arma hanno impiegato un pomeriggio intero per capire a quanto ammontasse di preciso il bottino. Soldi che due dei tre rapinatori erano riusciti a farsi consegnare dai cassieri dopo essere entrati in banca fingendosi clienti, con aria disinvolta, parzialmente coperti da una sciarpa e apparentemente disarmati. Nel giro di pochi minuti i rapinatori hanno riempito i loro zaini di blocchietti di banconote da 20 e 50 euro per poi fuggire di corsa a piedi, ad attenderli poco distante il terzo complice in auto. E' così scattato il piano antirapina del comando provinciale di Agrigento, con l'immediata attivazione di posti di blocco lungo tutte le arterie che collegano Raffadali al resto dell'isola, acquisiti contestualmente i filmati delle telecamere della banca e dell'intero paese. Preziosa è stata anche la collaborazione di alcuni testimoni che hanno descritto l'auto sospetta che si era allontanata dalla banca a tutta velocità con tre persone a bordo. Setacciate strade statali e provinciali. Alle 17.30 la svolta, quando i carabinieri hanno visto da lontano un'auto sospetta, ferma all'interno della piazzola di sosta di un distributore a Sant'Angelo Muxaro. Sono immediatamente scattati i controlli e dal portabagagli della vettura sono saltate fuori mazzette di soldi con ancora applicate le fascette della banca per un totale di 50.000 euro. In carcere sono finiti due pregiudicati palermitani di 26 e 53 anni ed un 43enne di Santa Elisabetta. In serata sono stati accompagnati al carcere di Agrigento in attesa dell'udienza di convalida.